paradosso non essere e surreale questi tratti distintivi della nuova collettiva micro room le immagini presentate dagli artisti dialogano attraverso la mancanza dalla mancanza di logica all'assenza del protagonista al surreale che può essere cromatico o semantico queste opere sono legate da quella strana sensazione che Sigmund Freud chiama un Heimlich ovvero ci mostrano situazioni che sembrano essere familiari ma che presentano segni di una inquietante straneità le sedie vuote attendono i fedeli le uova di gesso trovano il proprio nido appese ad un lampione la signora delle pulizie sembra sostituita dal suo alter ego figurato i bicchieri si trasformano in unità abitative una chiave non trova più nessuna porta da aprire un surreale spostamento cromatico a luogo tra un viso e la vettura del tram una mostra d'arte che i condannati non possono guardare diviene un'esecuzione una tela nascosta e quasi clandestina rispetto alla vita quotidiana cifre stilistiche diverse sembrano raccontarci ciascuna secondo le proprie prospettive un comune sentire grazie